ed eccoci qua ragazzi bentornati sul mio canale qui è sempre uchika gamer che vi parla e siamo tornati su kingdom hearts dream drop distance siamo esattamente qui nel punto in cui ci siamo salutati la scorsa volta ovvero nella mappa del mondo dopo aver completato la città delle campane con riku come potete vedere anche qui in basso a destra abbiamo completato il mondo con entrambi e adesso dobbiamo scegliere quale degli altri due mondi fare perché qui c'è la terra di mezzo che l'abbiamo completata con entrambi e qui abbiamo da scegliere o il paese dei balocchi oppure la rete io direi che visto che nel paese dei balocchi il livello dei nemici è 18 direi di scendere qui nella rete però io direi di farlo inizialmente con ovviamente sora partiamo prima con sora vale pronti ai posti sconfiggio ma tutte le volte devo sconfiggio sempre qualcuno battuto voilà finito tuffo d'oro uh super tuffatore trofeo guadagnato occhiali canditi un giocattolo da addestramento che insegna i tuoi spiriti a prendere due tipi di confronti alla volta c'è 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 Hey, I know where I am. Whoa! What is that? La rete! Premi i tasti di fianco alle lettere che si illuminano. Premi i tasti di fianco alle lettere illuminate per attivare il codice. Manipola i tuoi nemici. Ogni codice ha un effetto differente. Manipola l'ambiente. Minchia! E che è? Ah ok, qua così. Eh infatti dicevo come cavolo salgo? Poi... Ah, ci sono dei mostri. Salve! Risaliamo! Mi ha fatto scendere quel cavolo di cervo. Guarda una figata! Uhu! Guarda che parte si va! Eh... Ehi! 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 Hmm... Andiamo a mandare giù? Andiamo a mandare giù? Penso di sì! Che cosa dice di andare di qua? Ok, dovremmo esserci allora. Ok, dovremmo esserci allora. Ok, dovremmo esserci. Ehi! 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 Andiamo a scappare! Sfuggi alle guardie! Sfuggi alle guardie! Perché sono andato qua? Ok L'altro cosa Vedi Ole No, 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 non mi cadere No, eh? Tron I obviven He's alive Sì. Guarda questo ragazzo. È diverso. Ma è qualcosa che hai programmato, non? Non, Sam. Non, non ho mai visto. Cosa era? Cosa? Cosa arma. Posso vedere? Questo è davvero incredibile. Cosa un programma. La arma e la wielder. Programma? Non mi. Questo è chiamato un keyblade. E io sono Sora. Sono Sam. Quindi questo è come il mondo Tron, certo? Tu conosci Tron? Io... Uh... Sì. Ho conosciuto lui. E cose. Ecco. Il programma che hai scopato era Tron. Cosa? Era Tron? Tron era un buon amore. Siamo, abbiamo creato questo luogo. Il Grid. Era qualcosa, ragazzi. Cosa? 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 Poi tornare a tornare al normale, certo? C'è la idea. Grazie, signor! Voi dove? Voi seguire Clue. Voi sapere dove c'è? Non, non ho idea. Cosa un'utilizante. Tu non sei come Flynn o Sam. Voi, Sora. Voi mostrare il modo. Cora, abbiamo bisogno di continuare. Si. Cosa fare se Rinsler attacca? Se stiamo in un momento, abbiamo bisogno di care di Rinsler prima. Ci due di noi possiamo capire. Ok. Fai quello che puoi. Talvez tu e Sora puoi aiutare Tron. Papà, non! Orate, Sam. Ho sentito che Sora è una persona che possiamo credere. Ora, tu e io bisogna leggere. Ok. Cora, sei bello. Tu anche. All right, it's you and me. You ready, Sora? Yeah, let's do this, Korra. Clue should be at the helm of his battleship, the Rectifier. We can get there with a solar sailor from the underground docks. Hmm, what's this? A keyblade. Contro Aura sono concentrati e usati dopo aver parato un colpo del nemico. Buono. Ok. Andiamo a salvare, raga. Molto bene, ragazzi. Io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io, come sempre, vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Ciao, belli!